Sono Mauro Aristè, nuovo National Sales della divisione di video professionale di Audiogroup e volevo solo parlare due minuti del marchio Panasonic che abbiamo inserito pesantemente nel nostro catalogo. Panasonic è stata una scelta da parte di Audiogroup parlando di video professionale già prima che Panasonic acquisisse il marchio Sanyo. Di fatto l'acquisizione è avvenuta l'anno scorso e cura la distribuzione di tutto quello che era Sanyo come videoproiezione. L'azienda Panasonic ha acquisito l'azienda Sanyo in tutto, comprese le fabbriche. Per noi, per quello che riguarda la videoproiezione, sta transitando tutti i vecchi prodotti da Sanyo a Panasonic e quindi dal primo di aprile tutta la gamma del marchiato videoproiezione di Sanyo sarà marchiato con Panasonic. Nulla da dire sul marchio molto importante, uno tra i migliori e i più grossi al mondo, non solo come videoproiezione, ma come monitor, come videoconferenza, come telecamere, eccetera, tutto il settore del videoproiezione professionale. In questo caso Panasonic è un marchio molto importante, ha scelto Aveo come partnership per la distribuzione dei propri prodotti. Aveo copre con una serie di agenti sul territorio tutta la rete dei dealer esistenti, lavorando solo e prevalentemente con la rete indiretta, quindi dei dealer e dei system integrator. e questo fa sì che Panasonic ha scelto Aveo perché comunque ha la capillarità sul mercato e la professionalità di avere un supporto tecnico alle spalle per consentire l'evoluzione e tutto lo sviluppo di questo marchio sul brand Panasonic.